La primavera Certo, dite Babette Sedete Babette Desidererai provvedere io al pranzo celebrativo per il compleanno del decano Ma cara Babette, non avevamo intenzione di dare un ricevimento No, mia sorella e io stavamo pensando a un modesto pranzo seguito da una tazza di caffè Voi sapete che ai nostri ospiti non abbiamo mai offerto niente di diverso o di più? Voglio cucinare un pranzo francese Un pranzo francese? Un pranzo francese? S'il vous plait, pour une fois, un vrai diner français Un vrai diner français E va bene, accettiamo Babette C'est antonio Babette Vorrei pagare io il pranzo con il mio denaro No, Babette, no Non dovete neppure pensarlo No, non lo potremmo accettare No, Babette A o compri Mademoiselle Io non vi ho mai supplicato per qualcosa Accogliete la mia preghiera Viene dal profondo del cuore Babette ha ragione È la prima volta che ci chiede qualcosa È probabilmente l'ultima Come volete, Babette C'est antonio Babette Merci Devo chiedervi qualche giorno di libertà Per dare a mio nipote alcune istruzioni sul pranzo Oh, suo nipote È stata la sua nave che vi ha portato dalla Francia a Frederick Chan Vi aspetta un po' di tempo libero Siete libera, Babette Merci, mademoiselle Ci lascerà assai presto Eh sì Il suo cuore è già in Francia È naturale d'altronde Se solo riuscissimo a non trascurare i vecchi Ora che dobbiamo fare ogni cosa da sola Lei tornerà fra una settimana Lo so Ma per quanto ancora Non trascurare i vecchi Era una settimana Scur experiencia I non trascurare i vecchi Non trascurare i vecchi Giustrano La scurrica Ora che ci si può fare di più Grazie, Johannes. Bentornata, Babette. Avete fatto un buon viaggio? Grazie, mademoiselle. Un ottimo viaggio. Avete sistemato le cose con vostro nipote come desideravate? Sì, ho sistemato ogni cosa. Ho consegnato la lista delle proviste che deve portarmi dalla frascia. Fate attenzione. Sì. Martina, mi preoccupa quanto sta accadendo. Anche io non sono contenta di questo pranzo francese. Eccola. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.